Il mio amico sommelier Siamo in compagnia di Lorenzo Zumerle Ed è il direttore del COB Il consorzio al tuo frutticolo di Belfiore Che ci presenta in anteprima mondiale Un prodotto che troverete presto in tutti i bar Della provincia di Verona in anteprima Ora possiamo chiedere a Lorenzo Cosa abbiamo dentro questa bottiglia Lorenzo? Abbiamo un prodotto nuovo, innovativo Questo è un prodotto adatto per un pubblico femminile Un pubblico giovane, un pubblico frizzante Che ha voglia di bere qualcosa di innovativo E di leggero e che non lascia problemi Bene Lorenzo Ho assaggiato questo Wappel L'anteprima 1 specialmente Lo si nota per i profumi molto accentuati sulla mela Appunto E anche sui profumi che sono molto dedicati A quello che è la parte del vino È un prodotto che sorprende in bocca La media, struttura anche alcolica Sono a 8 gradi Nel fare l'aperitivo perfetto La bocca è molto rispondente È davvero un buon prodotto Da bere in compagnia Anche come fine pasto Il tutto, e non guasta Condito con un sano E assolutamente meraviglioso Senso di stupirvi Perché Lorenzo abbiamo scelto la mela Come compagno del vino? Perché così abbiamo un prodotto diverso In qualcosa che non esiste Perché volevamo dare un valore aggiunto ai nostri prodotti Al prodotto della terra Di creare qualcosa che non c'è E che aiuta i giovani a stare bene E anche a valorizzare tutto quello che è diverso Allora Lorenzo Partiamo dalla mela in questo caso Un messaggio di salute Un messaggio di buon bere E bere responsabilmente Questo vino quanti gradi fa? Questo vino fa 8 gradi Quindi si presenta con un aperitivo giovane Che non fa girare la testa E che non ti mette in difficoltà Mentre devi guidare Quindi è una cosa salutare anche Amici aeronauti Io l'ho bevuto per voi E devo dire che Wapol mi ha assolutamente sorpreso Abbiamo avuto da dire su molte cose Ma su una siamo stati tutti d'accordo È davvero un prodotto che ha l'eccellenza innata Come sa essere la terra da cui viene questo prodotto? Di ottima finezza Beviamo Wapol Per questa puntata amici Vi ho portato nelle terre di Belfiore Siamo stati in compagnia di Lorenzo Zumerle Che è il direttore del COB E io vi aspetto venerdì prossimo Al mio amico Sommelier E ricordate Un bicchiere di vino Allunga sempre la vita Allunga sempre la vita Grazie a tutti